Finalmente un canale dedicato alla poena di Harris, un canale tutto italiano. Incredibili video di caccia, tecniche di allenamento, come migliorare le prestazioni fisiche, addestramento di base, addestramenti avanzati. Ogni lunedì un nuovo video, ogni settimana un nuovo video, ogni lunedì alle 20.45. Iscriviti al canale per non perdere nessun appuntamento. Ti aspetto, ciao e grazie.